e volevo farvi vedere la mia nuova disposizione per quanto riguarda la cassettiera. Infatti circa un mesetto fa mia madre mi ha comprato queste nuove cassettiere allora volevo farvi un po' vedere come è cambiata la situazione del primo video che avevo fatto. Allora partendo dalla parte di sopra qui troviamo nella vasca da bagno della Sephora tutti i pennelli da viso fondotinta, correttore, cipria, blush in crema e quant'altro. Qui invece ci sono tutti i pennelli da occhi come vedete un po' mischiati però sono tutti qui. Poi qui davanti troviamo la crema per le mani che uso prima di andare a dormire che è questa qui che ho comprato a Nizza quindi non so dove la possiate trovare se non a Nizza e mi ci trovo bene perché come vedete è anche per le unghie e quant'altro. Qui ci sono i due burro di cacao che uso come base quando mi trucco e questo mi piace molto come già sapete perché l'avevo detto in un video però in me non lo trovo più. Questo invece è semplicemente la fragola. Qui tengo le forcine perché le uso in continuazione nei tre secondi. Qui poi troviamo le lime. Qui in questo cestino troviamo il pacco di link a contatto. Ce ne sono due perché ho due grazie differenti. In questo astuccio tengo tutti i dischetti stroccanti però adesso sono quasi finiti quindi non si vedono molto. Questa è una scatola dove c'è questo prodotto qui che è questa saponetta con l'argilla, no non ricordo esattamente cosa ci sei dentro, comunque è molto sfogliante. Poi sempre qui troviamo queste bustine che servono per pulire le lenti degli occhiali e poi il defunto mascara di Colossar che non riesco a buttare, quindi lo tengo qui come fosse una statuetta. Poi qui c'è la scatola del magnesio perché lo prendo tutte le sere e qui c'è il fix plus che tengo ancora scatolato perché la scatola è bella perché, sentite ci sono i rilievi. Allora poi partendo dal primo cassetto, qui troviamo tutti i rossetti come vedete, qui sono quelli di Playboy, questo qui di Dior, questo è uno di mia nonna che non uso praticamente mai però mi piace avere lì, un altro di Dior, questo è tra bottega verde, Clinique e quant'altro. Qui ci sono altri rossetti, questo mi ricordo di che marca è, infatti non c'è scritto ma non importa, sempre il rossetto di mia nonna, Dior, questo cos'è? Lo show orchid, sede della MAC, Collista e quant'altro, qui c'è anche un altro. Poi questo è lo spazio per i campioncini, come vedete c'è di tutti di più, creme e quant'altro. Poi passiamo a questo cassettino dove ci sono tutti i temperini e non è molto particolare, nel senso che ci sono solo tutti i temperini, basta. Questo invece è il cassetto di gloss, ci sono i vari tipi, della Sephora, questo è un labello, questo è della MAC, giù 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 qualcosa c'è, un altro di Sephora, della S, Collistar e quant'altro. Passiamo poi alle matite, qui ci sono tutte quelle che ho, queste a pari le socciglia, poi ci sono quelle per gli occhi, le labbra, con questi che sono matitoni, che utilizzo come base e quant'altro. Poi, qui siamo nella sezione eyeliner, diciamo, questo è glitterato, questo è glitterato, questo invece è nero, in penna, il fluidline della MAC, questo è un eyeliner che ho preso in Inghilterra da Claire, che è viola. Questo cosa ci fa qui? Non lo so, e basta. Poi qui è tutta la sezione, diciamo, mascara. Mascara, questo è della Playboy, qui c'è la matita, qui c'è il gel transparente per fissare le sopracciglia, piegaciglia, mascara, zoomati. Ok? Mascara in gel, questo è dell'arco, campioncini di mascara, eccetera. Poi qui c'è una piccola sezioncina dove, diciamo che, oh, non metto a fuoco, ci sono le ciglia finte, alcuni altri campioncini che non mi stavano nell'altro cassetto. Poi, questo è il cassetto random, qui ci sono tutte le palette, questi sono sempre i piccoli premi che ho comprato. Palette, 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 poi ce l'ho anche sotto. Poi, questo cassetto qui. Allora, in questo cassetto qui abbiamo tutti gli elastici che utilizzo praticamente giornalmente, con forcine, mine elastici, quant'altro. Qui sono tutte le scatole che tengo, o comunque qui ci sono mini prodotti della Lush, questa è una base in crema che ho fatto io, ma non serve molto. Questa è una delle scatole dei sui prodotti che io andrò a portare alla MAC per il profitto gratuito. Queste sono le mini palette di ombretti, Astra, questa della Revlon, questa l'ho presa a Nizza, non mi ricordo neanche, Chanel, oddio, questa è la data mia zia, non mi ricordo neanche dove ho presa, e quant'altro. Poi, qui ci sono gli ombretti in crema che ho, non sono molti, infatti questo è della Maypenny, questo è della, non ne ho idea, non ha la marca, vabbè. Questi sono tutti i prodotti in polvere che ho, pigmenti e quant'altro. Questi sono della Elf, come vi avevo detto sono ottimi, mi piacciono un sacco. Questo è della Bottega Verde, questi sono, uh, questi sono glitter, questi sono mini pigmentini, glitter della Kiko, sample di pigmento MAC, pigmento MAC, pigmento MAC, collistar e quant'altro. Qui ci sono invece tutti gli ombretti mono che ho di varie marche, Saffron, Kiko, Pupa, Cosa c'è qui? Project, Sfactor, Kiko, Pupa e quant'altro. Poi vediamo l'ultimo cassetto, dove la prima parte, come vedete, è occupata tutta dagli smalti, tutti, a prescindere da quale utilizzo più o meno. Come vedete, ce ne sono un po' della Aiko, della Essence, non so che marca sia, Kiko, MAC, Piko e quant'altro. Qui ci sono tutti i prodotti in crema per il viso invece, blush in crema della Shiseido, blush in crema della Color Workshop, blush in crema, diciamo, dell'Aiko, glitter della Deborah. Poi qui ci sono, questa è una paletta che vi ho fatto vedere, con tutti i prodotti in crema da utilizzare su tutto il corpo, questa qui. Per cui ci sono tutte le spugnette che utilizzo a volte, la spina barata che ha la piastra, che ha una spina diversa, il paint early della MAC, poi qui abbiamo un campioncino di soft and gentle, blush, questo non sono proprio blush, cioè sono più terra e illuminanti qui. Questa è una terra che ho smontato e ho messo in un pochettino, questo è un illuminante che vi ho fatto vedere, eccetera. Qui invece, scusate, ci sono tutti i blush, questo che uso praticamente generalmente, che mi piace molto, è la Semois. Questo è un minerale della Maybelline, anche questo mi piace molto, è la Essence, blush in crema, oh, così fa, blush in crema della MAC, health, eccetera. Qui ci sono tutti i prodotti in polvere, che siano fondotinta minerali, cipre o quant'altro. Fondotinta minerale della Maybelline, cipre minerale della Essence, cappuccino della cipre HD della Make Up For Ever, il correttore della MAC, cipre della Rimmel che non mi piace molto, correttore della Playboy. Infine, qui arriviamo a tutti i fondotinta, il saloran, quello che mi piace di più, che usarei tutti i giorni, ma cerco di usarlo con parsimonia, crema colorata della Nivea, fondotinta dell'Aldacos, e poi qui passiamo a le mette per le unghie, base per occhi e applicatori mini. Quindi qui è tutto quello che potete vedere. Inoltre ho anche questo spazietto qui del mobiletto del bagno, dove tengo tutti i prodotti che utilizzo per la mattina, per lavarmi, per struccarmi, la sera, eccetera. Quindi qui abbiamo il Fresh Pharmacy, è un campioncino di prodotto della Lush, sapon liquido della Clinique, crema idratante della Clinique, crema occhi della Clinique e tonico della Clinique. Posso anche dire che amo i prodotti della Clinique. Crema della Vichy, questa è una crema che mi ha dato la dermatologa per i brufoli, tonico della Lush, struccante della Sephora, crema della Aiko, latte detergente della Kiko, latte detergente della Kiko, profumo, crema da notte, olio indiano, eccetera. Poi qui abbiamo anche dei prodotti tipo, vabbè, questa è l'acqua ossigenata, questo è il, come si chiama? Il levasmalto, che c'è scritto qua ma non mi ricordo come si dice. Poi questo è lo spray per asciugatura rapida, base della Yves Saint Laurent da viso e direi che questo è il mio spazzetto. Questa è la crema da notte, forse non ve lo metto, però questo è il mio spazzetto. Spero che questo video mi sia piaciuto e un bacio ragazzi, a presto, ciao! Ciao!